Ciao a tutti ragazzi per me di questo nuovo video Vabbè sono morto già vabbè Comunque Non di questo nuovo video vi volevo dire Allora Vorrei sciopare un balletto Però noi che lo scioppiamo Noi che lo dobbiamo scioppare così Una sfida Una piccola sfida E' dire di fare tipo Trocchio Se facciamo trocchio Dovrei che Ci potevamo andare a scioppare il balletto Che piange Questo balletto Questo balletto che mi piace assai 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 Tanto la prossima season a livello 4 Abbiamo sempre 100.000 VAT Quindi io mi prenderò un altro 8 pass Se mi piacerà il pass Che mi avrei detto Sicuramente secondo me Il prossimo pass sarà sempre bello Che sarà fra pochi Di più di una settimana Allora ne abbiamo 18 Tra poco vabbè dopo sto giorno E' un 19 quindi una settimana Sì una settimana e più giorni Vabbè E poi si sminirà Vabbè che Come vuole il tempo vero E noi aspettiamo Però faccio questa sfida per Per quel belletto Che mi piace Che quasi Io in tutto ho fatto solo il balletto Quello che fa Ora vi faccio vedere Ora vi faccio vedere Questo qua In tutto Questo ho fatto 200 No questo Questo qua 200 Mi va che sono E mi piace E io ho uno per cui Valla qui E basta Allora Intanto andiamo subito Allora basta fare lo scemo Che diventa Sono fumatoso Il video c'è E' bello Comunque 3 kill Dove vogliamo qua Avevo 3 possibilità Io Lo sciopperò Boh Non lo scioppiamo Non so mai Ma altre possibilità 3 anche Un po' più Kill Cioè Supriamo le 3 kill Meno Già 3 kill Dai Se ne faccio 3 kill Lo sonnavo Cioè Almeno 3 kill Anche Se ne faccio Un di più Ancora meglio Cioè Però se ne facciamo Tipo Assai Troppo Assai Eeeh Cioè Perdo Una penitenza Nei commenti Mi scrivete Mi vedo Di quello Da fare Io la faccio Una volum Quella che volete Di boc Eeeh Compro Una La prima Skin Di Di 800 mil Buck Ne fa Nella Nello shop Io lo faccio Lo faccio Ape anche se Devo aspettare Un botto Per rifare Mi back Ma io lo faccio Lo farò Si Invece E poi Tipo Succede Che Non ragano Vi bacco Quindi Immaginate Tipo Eh No ragazzi Ho ritirato La sfida Perché Non c'è Non mi andava Disciuppare Tutto Che bello Bellissimo Qua A vostra Un botto l'ultimo un corto ci sono queste cose che cosa da te non sono un bel messo molto buono non c'è lei prendiamo lo stesso il centro presto un po' tutto va la cacchetta di un canale il voler un botte ero così e ci è sparato anche se ci sono ti vedono stessi bot vi prometto che si potrebbe ripetere un po' tutto raga spero almeno di fare 3 kg perchè il balletto io lo voglio shoppare sul parentesco con il bug perchè non ho mai shoppato come sapete tutti faccio un po' di livello lo faccio un po' così tutto l'altro neanche se me la magno la gentile il tx di gamba e ci ritmiamo anche qua e abbiamo anche questo altro l'ortaggio probabilmente che puoi guidare il tipo tutto perchè hanno fatto vedere che potevano guidare anche questi un po' di tutto ci poteva guidare un po' di tutto un po' di tutto un po' di tutto rompiamo anche le scatole alle persone ma scuserebbe dovevamo fare del kill non c'è nessuno boh vabbè ci faccio un po' di spiva ecco beh non c'è nessuno andato qua orca al giro ce n'è ci faccio un po' di spiva non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno ecco ok 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 vedi l'expl GIS ma la sono fatta un po' di只有 ok ci designedvi e che mi servi con loro quindi vai insomma dove dove è volato ripetante no come devono nabu ok nabu dei nabu ok basta perchè io ho lasciato la tanita che con l'altra è sparita e non mi sono preso la pistola che era la va bene vabbè anche devo fare avanti e dietro io scusa io devo andare qui prendiamo un'alarma e dove scegliamo da questa parte grazie non sparire prima del del tempo vabbè vabbè la musica quindi scusate vabbè mi hanno il copyright young ma scusa se scenderò l'anno dai non devo vedere come funzionano i soldi devo vedere come funzionano dove si stanno scendendo o da fottoria scendo per scendo dove erano i soldi mi hanno dato quanti sono i soldi i soldi erano i soldi la fila dai un po' di scia la fila è rotto easy 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 nesquizzi 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 non mi piace più salta il muore ma è stato nesquizzi 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 ma non c'è il video è un po' che da crescere vado col suo collo vabbè è stato tutto colpo tu hai fatto bloccare allora vici pisi ne spiace la donna arrivi vado vado a mettere macchina ma non puce ma raga ma che fa da mettermi le macchina ma se alla fine sono bloccati e non posso prendere l'xp ma porco 2 cioè si dovete fare una cosa fuata la vn 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 Raga vabbè noi abbiamo fatto tutto il kill e basta Ne dobbiamo fare Se volendo Ne dobbiamo fare un po' di più ma Tre persone hanno fatto squadra E mi hanno ucciso quindi Il balletto Che titolo mettere? Vediamo challenge Non lo so Non fa un balletto Non lo so Direi raga che è venuto il momento Acquista Facciamo anche lo screenshot Ecco Allora lo occupaggiamo su tutto questo Cioè Lo mettevo subito nei preferiti Dov'è? Dov'è il signore che piange? Il signore che piange? Il signore che piange? Eccolo qui Ecco quello è il mio preferito Togliamo Sta cagata che neanche lo usiamo Quindi ci andiamo a mettere Oh ma che? Oh Allora dove cacca è? Eccolo qui Eccolo qui Ora facciamo piangere Perché ho sciopo di balletto Ora c'ho 900 più back Mi trovo un po' strano a vedere i 900 Però vabbè Vabbè raga ci scioppiamo tutti i negozi Mi avrei preferito questo Se raggiungiamo Se raggiungiamo Entro Do Fra quanto ore Entro sei ore Arriviamo almeno ai Sei like Anzi anche di più Otto like Ho sciopo sto balletto Subito Anche se Mi fa che poi Non c'è no Però vabbè Anzi dieci Perché intanto 70 fan ce l'ho raga E se deve rifan Li mettete like Quindi Cioè questo Se invece arriva un po' di meno No raga No no Bellissimo Raga se arriviamo a mettere il like Vado a sciopere questo Entro sei ore Comunque raga direi di finire il video qua Ti vediamo alla prossima Se ne arriviamo a 5 o 4 o 3 like E mi vedo a sciopere questo Tra le yay E ci vediamo al prossimo video Ciao